Buon pomeriggio a tutti ragazze e ragazze e oggi parleremo nuovamente di Jean Yaman perché all'orizzonte si vede proprio una nuova serie come protagonista lui insieme a un'attrice italiana fatta proprio in Italia. Ma vediamo un attimino che cosa abbiamo scoperto. Secondo una recente intervista rilasciata dal settimanale Gossipi TV da Faro Gutturgut che è il presidente della casa di produzione Gold Film, nel futuro di Jean Yaman c'è una serie che vede una coproduzione Italia-Turchia con un'attrice proprio italiana. Infatti ragazzi dopo la chiusura anticipata della soap opera che stava andando in onda in Turchia by Yanilis e ovviamente tutte le proteste che ci sono state perché in tanti non volevano che questa soap veniva chiusa, ci si chiede nuovamente se Jean Yaman avrà altri progetti. E l'attore turco che parla benissimo quattro lingue tra cui anche l'italiano e lo sappiamo benissimo ha firmato due contratti con la Gold Film. Infatti si parla proprio di una collaborazione con Ferzan Obzetech, il padrone proprio della Gold Film e annuncia proprio in questa intervista il progetto con Jean Yaman e dice così Si tratta di una mini serie di 10 puntate in collaborazione proprio con Turchia e Italia. L'attrice però deve essere esclusivamente italiana che affiancherà Jean, un progetto che può andare anche sulle piattaforme digitale come ad esempio Netflix. Infatti dopo By Yanilis punto su questi progetti dice il produttore ma anche sulla coproduzione della miniserie. Al contempo la Gold Film sta già preparando una nuova commedia romantica per l'estate con protagonista proprio Jean Yaman. Ovviamente si era parlato in questa intervista che l'attrice doveva essere italiana e nel mondo del web è venuta in vente proprio Denise Capezza che ha recitato nella serie TV turca in Turchia per ben quattro anni. Infatti lei dice così all'inizio non fu facile, un ruolo per me nuovissimo, ritmo estrenuanti, lingua che non era la mia. Poi però si è rivelata una delle esperienze formative più importanti della mia vita artisticamente ed umanamente. Quando sono tornata in Italia ho dovuto ricominciare da capo. E l'attrice che stiamo parlando è proprio lei quindi si mormora in giro che la protagonista che affiancherà Jean in questa miniserie di ben dieci episodi è proprio lei. Voi ragazzi che cosa ne pensate? Siete contenti di questo progetto? Scrivetemelo nei commenti ovviamente io come so altro sono qui sempre pronta per anticiparvi e farvi sapere tutte le notizie che riguardano il nostro amatissimo bellissimo Jean Yaman.